Valentina e Daniele, Roberto mantiene la start line, buona la fattura 2, salgono uno a fianco all'altro, Valentina e Daniele, tuttora anche Roberto, Valentina si occupa del tunnel, 30 secondi al termine. Nuovamente sul cancello, un buco, ora altro giro, altra corsa, ma Daniele si allarga nuovamente, Valentina si occupa di chiudere il tunnel, buona la manovra, Vitello che ancora decide di rimanere lì, scoppa il tempo ragazzi, niente da fare, Vitello.